Abbiamo dedicato quest'anno all'acqua, sia perché fonte di vita, sia come comportamento degli uomini. L'acqua, senza acqua non c'è vita, però l'acqua è anche flessibile, prende la forma del recipiente che la contiene. Se il recipiente è quadrato, l'acqua è quadrata. Se il recipiente è sferico, l'acqua prende la forma sferica. L'acqua però riesce anche a essere persistente, riesce a scavare, perché pur essendo una molecola molto flessibile, sa quello che vuole. Noi abbiamo dedicato all'acqua questo anno e ne approfittiamo per fare un buon anno scolastico ai nostri alunni, ma a tutti gli alunni di Napoli e d'Italia. L'augurio per il primo giorno di scuola arriva dall'Istituto di Piazza Guglielmo Pepe, a pochi passi da Piazza del Carmine, nel quale spiccano lavori come il mosaico realizzato dagli alunni e chiamato Scuola e Territorio, per sottolineare quanto proprio quel territorio ricco di storia alimenta ed ispira l'impegno scolastico, fino a identificarsi con lo stesso nome, dovuto all'antica frequentazione dei mercanti orientali nell'attuale piazza mercato, all'epoca esterna alle mure di cinta. Ogni anno, dunque, qui si sceglie un tema diverso per affrontare l'apprendimento, con un'ispirazione che faccio da guida. Fra laboratori, aule multimediali, biblioteca con il centro di documentazione pedagogica ed un'originale scala colorata che unisce il tutto. Il nome dell'amministrazione del sindaco e naturalmente di tutto l'assessorato alla scuola, dall'assessore all'ufficio, alla segreteria, allo staff, un augurio immenso di un sereno anno scolastico per tutta la comunità educante, che è costituita, come sappiamo, non solo dai nostri meravigliosi bambini, bambine, ragazze e ragazzi, dal personale docente, dal personale scolastico impegnato in questo momento, dai dirigenti scolastici e i funzionari delle nostre scuole. E naturalmente io considero la comunità costituita anche e soprattutto dalla componente dei genitori, dei nonni, di tutti coloro che ogni mattina e stamattina, insieme a me, si sono svegliati e emozionati perché i propri piccoli, le nuove generazioni vanno a scuola. Stamattina visitando due scuole ho capito quanto è grande, quanto è importante la scuola per questa città, l'ho capito una volta di più e una volta di più insisto nel dire che quello che si fa nelle scuole non viene narrato abbastanza perché lì si costruisce la cultura della pace, della convivenza, dello stare bene tra differenti, che è il contrario di quello che purtroppo spesso il mondo adulto rappresenta come modello e lì si costruisce la relazione positiva tra gli enti, tra le istituzioni ed è per questo che in particolar modo rivolgo un auspicio per quest'anno che viene e che il comune e le scuole possano in sinergia, sempre insieme, risolvere anche tutte le criticità che sicuramente incontreremo durante l'anno. Io come assessore sono a disposizione di tutta la platea scolastica e naturalmente contiamo di far partire quanto prima i nostri servizi, sicuramente dal 1 ottobre la rifezione scolastica, se tutte le famiglie si iscriveranno nel portale e consentiranno quindi alle scuole di darci la loro data d'inizio perché è una data che non può essere imposta ma deve essere necessariamente concertata con le scuole. Anche il lavoro di ricerca, il lavoro di progettazione comune, anche il lavoro sui progetti che conduciamo insieme, anche la lotta alla dispersione, anche la riflessione sulla diversità, tutto questo noi lo possiamo fare soltanto insieme, non siamo controparti ma siamo parti di una stessa comunità che intorno alla scuola si riconosce.